In occasione degli appuntamenti del Cinema Ciccolella I Giovedì Dessè, siamo in compagnia di un giovane regista di Adelfia, vicino Bari, Cristiano Ciliberti. Questa sera verrà proiettato un film che hai realizzato, dal titolo? Il Pirata, Memoria da Spoon River. Come mai questo titolo? Come mai questo titolo? Il Pirata è un film a capitoli e ogni capitolo ha un suo protagonista. Il Pirata è uno dei miei otto protagonisti, nonché il narratore, scopriremo alla fine, visto che è nell'ultimo capitolo, il perché il Pirata e il perché lo soprannominano così in paese. E Memoria da Spoon River perché è liberamente ispirato all'antologia di Spoon River, di Edgar Lee Master, solo che è ambientato non negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, ma nel meridione d'Italia dei giorni nostri. Quindi è stato un po' un tentativo di adattare questa opera letteraria che è... Una trama vincente, a grandi linee puoi spiegarla? Allora, narra della vigilia della festa patronale in un piccolo paesino del sud Italia, 1X, l'abbiamo girata da Delphi nel mio paese, ma poteva essere ambientato ovunque, in Sicilia, in Puglia, in Campania, dappertutto. E viene vissuta questa giornata attraverso otto punti di vista di otto personaggi diversi, che sono un po' quelli che possiamo definire, cioè buonariamente, io almeno lo faccio buonariamente, cioè gli scimi del villaggio, cioè quelli un po' ai margini, un po' presi in giro da tutti quanti, ma che in realtà connotano talmente tanto un posto che diventano il velo fulcro, il vero cuore della nostra provincia, delle nostre province in generale. Quindi l'idea era raccontare quel tipo di marginalità là, che mi ha sempre affascinato fin da quando ero piccolo e che a un certo punto ho voluto mangiare in qualche maniera e l'ho fatto con questo film. Cristiano, realizzare un film non è molto semplice, perché sappiamo che occorrono fondi, occorre tanto impegno, tanta professionalità. Questa realizzazione per te è stata molto dispendiosa o si è rivelata più semplice delle aspettative? Allora, senza dilungarmi troppo in tecnicismi, è andata tutta molto liscio fino a che non ho interrotto le riprese, poi tutta la post-produzione, dovendo star dietro a degli iter burocratici e ministeriali ai quali non eravamo preparati perché era la nostra prima volta, mia e dalla mia socia, Sabina Scanzani, che è anche la sceneggiatrice del film, lì ci siamo impantanati per parecchio tempo, con parecchie preoccupazioni, anche non sapendo se il film avrebbe mai visto la luce, se l'avremmo mai finito, se sarebbe andato mai in sala, mentre invece siamo riusciti a portarlo in porto con tanti sacrifici, tanti, 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 però alla fine ne valsa la pena, sono contento, siamo contenti. Ti senti di ringraziare qualcuno in particolare? Tantissime persone, ma Sabrina in particolare perché è il suo supporto quello che ha portato la realizzazione in porto, perché nella fase di stagnazione è lei che ci ha tirato fuori dalla stagnazione, quindi già le devo tante cose per tantissimi motivi, questa in particolare gliela devo, quindi grazie Sabri, ciao. Ne hai in mente un altro di film? Svegliamo qualcosa? Sì, stiamo lavorando a un secondo film, siamo in fase di scrittura con uno sbocco in sviluppo, insomma, concreto, vediamo se lo sbocco produttivo sarà altrettanto concreto, però insomma, diciamo che il ministero non ci sta aiutando, il nuovo ministero non ci aiuterà, quindi dobbiamo aiutarci in qualche altra maniera e forse ce la facciamo, vediamo, dovremmo farcela. Grazie.